Siamo a Pistoia e ora torniamo a Migliarino Ora si vede tutte le zone Ah, non volete che riprendo lì tutte le case in cima ai monti che c'è abitato Eh? Qui si è arrivato Quella torre lì, vedi, praticamente si vede, cioè, ma anche da lì in cima, dove si mette a sorpassare Ecco qua, sto riprendendo la torre Dove si mette a sorpassare Sto riprendendo la torre e quegli edifici laggiù Praticamente si vede la fortezza della Verona Cioè si vede il Monte Serra con le antenne, si vede tutto Domino tutta la vallora Ora io mi metto dietro a questo, perché le gallerie non mi guardo sui passi È buio Si va a letto Guarda va che lavori Buonanotte Suonatore 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 Un con vedo che c'è Questa discesa via è periodosa, vedi? Tanti la fanno, ma poi succede come a quel camion che andò nella corsia di là Finito Pippi Amore Guarda che paesaggio qua che si riprende Serra Valle Pistoiese Praticamente la verrua rimane su quel cucuzzolo la Rimane Vedi quello la è il Monte Serra Ora perché non è chiaro, se no si vede tutto Si vede A vederlo sembra un tiro di schiocco Si Fa questa AutoAA Auto Grill E c'è l'auto Velox Intanto io vado a 80 sinchè ho dovuto entrare per forza santuario della madonna è da bell'iva questa roba c'è la statua della libertà c'è qualcuno che fa le sculture a Pisa Nord e poi c'è a Montecatini Terme e noi si fa Pisa Nord la velocità la velocità ideale per andare in autostrada è di 5-10 km così nessuno rischia gli incidenti chissà chissà se poi si sente la voce nei video e questo rumore della strada nuova sulle ruote è di 5-10 km e il rischio è di 5-10 km e il rischio è di 5-10 km è caldo no non ce la fai ecco ecco loro stavo per riprendere ma c'è c'è la vegetazione non si riprende casina bianca lì praticamente costruita fatta fa da napoleone perché controllava da lì controllavano i movimenti delle truppe e con gli specchi facevano i segnali con Luca e con Pistoia cioè con Serravalle e con Pisa ora prova a riprendere la nave sul monte difficile che lottiamo ora prova a riprendere la nave sul monte ma qui siamo sempre a Firenze no siamo al lupo non si vede perché c'è blocca tutto non si vede che puzze c'è qui? la cartella cosa c'è? il fuoco l'abilitazione non ci si riesce guarda ora quando siamo qui ecco quello lì è l'hangar per il dirigibile che bisogna fare cadutisti quello a fare lì ecco la neve sul monte guarda lì dove? lì qua siamo a Cozzo non ci chiamano dove è Tassignano Tassignano è il fiume di Capanna quella la in cima e la torre spaccata eccola qua l'ho vista ma mentre non c'è il tempo non ci riesco a riprenderla l'ho ripresa prima o no l'ho ripresa a culo quello è di riprefatta ci siamo andati in cima a camminare a vedere il filetto il filetto ne puoi è il filetto in cima c'è il castello qui c'è le cave e qui è proprio quel ponte che ci si passa in bicicletta per andare a filetto sì a me sto monte basso sì mi garba mi garberebbe provare camminando a c'in cima il filetto da quella parte lì che sembra che si monta meglio sarebbe da provare eh anche il filetto di carne che c'è addio siamo in discesa ora se monti lì sopra si fa come gli stuntman si vola con la macchina tu 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 anche qua è il traversagno si no si è il traversagno anche quel ponte là la traversagno qui sotto c'è la barra che sarebbe sarebbe la discaria di ventiano delle acque putride che vanno a finir nell'acqua da c'è tutti gli uccelli bianchi gli uccelli bianchi allora si prende uno di quelli e si porta a casa come animale da compagnia come animale da compagnia come animale da compagnia quindi non ti sbagliare un girandello un girandello un girandello ed eccoci qua siamo usciti dall'autostrada e ora siamo a Migliarino a casa in inglese in inglese è detto home sweet home passi di va invece di passare di là vabbè quindi si fa la traversagno non lo riprende riprendo si lo riprendo ma adesso ci sono mi manda anche baci dalla finestra faccio un mua mua ciao bella vi faccio capito? si vai bene ciao bello ti vuol dire no non lo so non lo so non lo so è un ricordo no la rabbia vedi brutto quella sede guarda dai lo stabilimento grande ossia no questo è lo zio lo stabilimento ah grazie magari lo riprende e ti fa ciao bello cosa fai stai facendo un film dice è presto escano sul tramonto e c'è la sedia dove ci si mettono lavori in corso questa via è giapponese si della toyota c'era mia stamane facciamo ne passate di qua si è voluto passare di là capisco se è un fosso quello lì al campo o se è bagnato a parte un cifo è un fossetto è un fossetto di scarico ecco ora lo vedo non lo vedevo prima ora lo vedo ecco pensavo questo punto del campo era rimasto bagnato no è una cosa dove va l'acqua il problema anche se vedi hanno messo lì però ti arriva uno tutto sparato dal punto un po' di prudito all'orecchio destro grazie grazie ciao 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 Grazie.